e con me perchè non lo fai? sai non scherziamo qua tu devi andare da tuo padre e dire figli di puttana tua madre è una zoccola che batte a Calcutta troia troia raccomandati di merda figli di puttana raccomandati che non contano un cazzo e sono solo delle capre di merda o capre o puttisco